e allora questo è il corso di teoria di quest'anno che avrà una cadenza quindicinale non bisettimane, quindicinale ci vedremo una volta ogni due settimane e il corso di teoria io lo vorrei sviluppare in modo abbastanza snello nel senso non vorrei ammorbarvi troppo la vita con regole, dettami e cose del genere però ovviamente sempre di teoria musicale stiamo parlando che comunque ovviamente è una materia che non può esulare più di tanto da questo è chiaro che poi le regole nel nostro caso si traducono poi in musica si traducono in cose che servono almeno teoricamente teoricamente, scusate la battuta stupida a farci performare meglio a metterci in condizione di essere più comodi quando andiamo a suonare quindi a eseguire un brano musicale, a cantare eccetera tutta una serie di conoscenze teoriche che potremmo per fare un paragone banale paragonare un po' la grammatica e la sintassi di una lingua se noi impariamo una lingua straniera una lingua diversa da quella che siamo abituati a usare come quotidiano magari possiamo farlo anche paradossalmente quasi a orecchio nel senso la forza di vedere serie tv, film, ascoltare musica, andare in viaggio eccetera parlare con la gente magari nel frattempo la lingua la impariamo anche impariamo un po' a padroneggiarla però poi dopo quando ci mettiamo sulla parte pratica ovvero dobbiamo leggere un testo anche semplicemente un cartello stradale un testo di una canzone eccetera oppure quando dobbiamo scrivere ancora peggio una frase, una lingua che padroneggiamo dal punto di vista dell'utilizzo ma della quale non conosciamo le regole lì si vedono un po' di magagne questo per dirvi che sì, è possibile fare musica tranquillamente anche senza conoscere nulla della teoria musicale e questo se qualcuno vi dice il contrario sta mentendo perché la musica è una prassi performativa quindi in realtà la teoria potreste tranquillamente ignorarla però così come se usate una lingua straniera ne conoscete anche la grammatica, la sintassi eccetera potete migliorare il vostro vocabolario potete parlare in modo più fluente potete utilizzarla in ambiti diversi allora la stessa cosa succede in musica se conoscete anche le basi teoriche potete utilizzarla meglio e quindi essere più presenti non affannarvi e non andare in panico quando dovete fare determinate cose magari un po' più complesse dal punto di vista tecnico perché almeno per quanto riguarda la parte teorica siete coperti e quindi in realtà io vi consiglio di padroneggiarla un pochettino ora come dicevo è una materia abbastanza noiosa quindi vi chiedo un po' di pazienza e questo è un po' il motivo per cui le lezioni avranno una cadenza di settimanale scusate, quindicinale continuo a sbagliarmi quindicinale perché vorrei non darvi troppe nozioni che non riusciate a immagazzinare vorrei che queste nozioni che noi affronteremo le affronteremo pian piano anzi su questo vi chiedo di darmi dei feedback se i concetti sono troppi troppo difficili eccetera scrivetelo magari anche se mi scrivete in privato se non volete scriverlo sul gruppo non fa niente anche se una domanda condivisa è sempre un'occasione di discussione magari qualcuno ha gli stessi vostri dubbi o magari potete da una domanda ne scaturiscono altre eccetera comunque fatemelo sapere quando affrontate le cose che abbiamo visto a lezione perché questo ci fa capire un pochettino come stanno sedimentandosi questi concetti nella vostra vita e ovviamente affrontatevi e cercate di riscontro anche quando fate lezioni con i vostri insegnanti qui ci saranno strumentisti e cantanti di un po' tutti i tipi insomma nel senso tutti voi ad oggi siete presenti in pochi ma comunque la platea è più grande considerando quelli che si vedono le registrazioni dicevo quindi ogni strumento poi ha le sue caratteristiche che si rifanno alla teoria nel senso che faccio un esempio per i cantanti potrà essere più importanti il discorso degli intervalli il discorso delle note singole sulla melodia delle note che si ripetono una dopo l'altra quindi questa cosa qui invece magari per un chitarrista per un pianista potrebbe essere interessante oltre a questo anche andare a parlare di armonia e quindi delle note che invece suonano contemporaneamente non è detto che a un cantante non interessi l'armonia a un chitarrista non interessi la melodia ma che sicuramente ogni strumento ci porta alle caratteristiche diverse i percussionisti, i batteristi saranno più attenti alla ritmica ognuno poi prende la teoria e ci fa quello che è il proprio specifico quello che è giusto che ci faccia allora, finito questo cappello iniziale vi inizio ad entrare nel vivo della lezione avviso ai naviganti io ricomincio proprio da capo ovvero se anche avete dei concetti già sapete leggere un po' le note un po' di teoria l'avete fatta ecco, se anche uno di voi a meno che non siate tutti i tanti già esperti ma non credo, altrimenti non sareste qui io ricomincio proprio da zero cerco di andare a un ritmo abbastanza chiaro cioè in modo che le cose possano essere spiegate con chiarezza e se ovviamente ci sono problemi non fate sapere se invece sono cose che già sapete ragazzi, abbiate pazienza ve le risentite oppure magari saltate questa lezione passate alla prossima insomma, non vi fate problemi di fretta comunque io vi consiglio di risentirle sempre perché magari ci può essere sempre qualche piccola lacuna qualcosa che non è stato detto qualcosa che non sapevate e quindi può essere sempre un'occasione per prendere quello che non c'è e che magari non avete fatto bene in un altro contesto o che sapete in modo incompleto allora, vi condivido lo schermo e nella schermata ci metto la dispensa che vi ho mandato ve l'ho mandata sul gruppo Whatsapp si chiama Pillole di Teoria Musicale è una dispensa fatta abbastanza bene in alcuni punti un po' confusa ma in quel caso vi inserisco io vi do le precisazioni che mancano quella la useremo per vedere la prima parte del nostro percorso e poi andremo a vedere qualche cosa in specifico a seconda di come si sviluppa la cosa di come reagire di come riusciamo a... del passo che riusciamo a prendere della velocità alla quale decidiamo di andare allora, vi condivido lo schermo scusate un attimo ok, dicevo quindi quello che ci conviene fare è considerare queste cinque righe che sono il pentagramma classico poi una riga immaginaria nel senso che non la scriviamo ma vedremo poi in che modo l'andiamo a evidenziare che è quella del Do centrale vedete qui c'è scritto proprio riga di Do centrale e altre cinque righe sotto ok? questo ambito qui noi evidenziandolo con la cosiddetta chiave di violino che si chiama chiave di Sol come è scritto qui sotto e la chiave di basso che si chiama chiave di Fa lo riportiamo secondo quello che è il classico spartito per pianoforte non so se ci sono pianisti tra di voi ma se ci sono pianisti tra di voi o comunque avrete visto uno spartito per pianoforte sapete che ci sono due gruppi di pentagrammi con una riga centrale che non c'è però diciamo quella riga sta in quello spazio bianco che si pone tra un pentagramma e l'altro ok? qui sotto andiamo a vedere un disegno che ce lo fa vedere con maggiore chiarezza vedete i due pentagrammi vedete lo spazio bianco e questo è lo spazio bianco in cui c'è questa famosa riga la riga del Do centrale che non vediamo cinque righe sotto cinque righe sotto ma perché le chiamiamo chiave di violino ovvero chiave di Sol e chiave di basso ovvero chiave di Fa perché se andiamo a zoomare vediamo che questi due puntini che stanno qui sulla chiave di violino saranno proprio in corrispondenza di quella che è la nota Sol ok? di uno dei Sol che abbiamo invece i due puntini che stanno qui subito dopo la chiave di basso saranno in corrispondenza della nota Fa ok? infatti se andiamo a contare Fa, Sol, La, Si che si appoggia su questa riga il Do che come abbiamo detto il Do centrale sta in mezzo e poi ci saranno il Re il Mi il Fa e ovvero sulla riga il Sol appunto con i due puntini quindi queste sono le due chiavi sulle quali andremo a lavorare la maggior parte delle volte ora magari non sono le chiavi su cui leggono i vostri strumenti però per quanto riguarda la parte teorica dobbiamo abituarci a usarle entrambe perché comunque definiscono l'ambito di un po' tutto quello che può succedere dal punto di vista musicale ok? non proprio tutto quanto ma comunque allora questi sono punti di verifica come dicevamo chiave vedete qui lo spiega anche più chiaramente chiave di Sol evidenzia la riga del Sol chiave di Fa è evidenzia la riga del Fa e il DOS centrale sta in mezzo allora come fare per imparare a leggere la musica? allora leggere la musica è un processo che ovviamente richiede tempo richiede pratica richiede esercizio questo tempo pratica ed esercizio possono essere fatti in molte maniere io quello che vi consiglio di fare per non rendere la pratica della lettura della musica una cosa pallosa micidiale è farlo in modo attivo nel senso fatelo con il vostro strumento non leggete la musica tanto per se io mi metto qui a leggere Mi, Sol, Si, Re, Fa sto semplicemente dicendo dei nomi non sto veramente suonando queste note quindi è molto più utile se vi abituate sin da subito anche facendo cose elementari anche leggendo questi pallettoni qui a suonare delle note che leggete ok? quindi facendo questo voi imparate a collocare le note su tentagramma imparate a riconoscerle e imparate anche a riconoscere la nota sul pentagramma ma riportarla sul vostro strumento ok? in questo momento noi stiamo vedendo la chiave di Sol quindi la chiave di violino per imparare a diciamo orientarci la cosa principale da fare è imparare dove stanno le note la cosa migliore non è impararle tutte una dietro l'altra mi fa Sol, la Si, Don ma imparare a riconoscere le note sulle righe cioè sui cinque righe e le note sugli spazi ok? quindi nota sul primo spazio Mi nota sul secondo spazio Sol perché ovviamente in mezzo ci sarà la nota sul primo spazio che è Fa ok? quindi Mi, Sol, Si, Re, Fa sono le note sulle righe prima, seconda, terza, quarta e quinta righe e le note sugli spazi invece saranno quattro perché gli spazi sono quattro Fa, La, Do e Mi allora delle note sopra il pentagramma noi per ora non ci occuperemo perché comunque sono una cosa che è sull'ambito della lettura base quindi vorrei iniziare con la lettura base però per nominarle vi spiego come funziona allora quando andiamo oltre il pentagramma dobbiamo cominciare a usare quelli che si dicono tagli addizionali vi zoom un attimo l'immagine perché qui l'immagine non è chiarissima allora la prima nota che troviamo sopra il pentagramma è ovviamente l'ultima nota che viene dopo l'ultima nota che c'era sulla riga quindi l'ultima che avevamo sulla riga era un Fa e quindi la prima sopra sarà ovviamente un Sol se andiamo avanti ora che questo sia un La noi diciamo beh ovvio viene dopo il Sol e quindi è normale però la cosa che vi faccio notare è che vedete questa questa piccola riga che c'è in mezzo questo qui si chiama taglio addizionale dovrebbe essere un po' più pronunciato dovrebbe essere una riga che va da qui fino a qui cioè che proprio si vede un po' come se qualcuno dividesse a metà il pallino con una riga orizzontale questa riga orizzontale che cosa va a rappresentare? va a rappresentare l'ipotetica continuazione del pentagramma cioè noi abbiamo cinque righe uno due tre quattro cinque ma qui ce ne sarebbe una sesta come qui quando vedremo questo ce ne sarebbe una settima capito? noi vediamo uno due tre quattro cinque sei vedete questa riga qui e sette questa sopra quindi questo per tornare al concetto principale il pentagramma non è penta e basta il pentagramma è potenzialmente infinito ovviamente cosa lo rende finito? il fatto che non possiamo suonare note infinite perché a un certo punto andiamo dal punto di vista dell'altezza delle note sopra una certa frequenza e quindi non riusciamo più a sentirle cioè il nostro apparato uditivo sopra una certa frequenza e sotto una certa frequenza non sente più nulla sapete quella cosa del fischietto dei cani per cui noi non sentiamo niente e loro sì perché i cani sentono determinate frequenze in alcuni casi anche note più alte di quelle che sentiamo noi quindi ci possono essere dei suoni che loro sentono e noi no comunque quindi dicevo la cosa importante da fare all'inizio è imparare la filastrocca delle note sulle righe e note sugli spazi quindi inizio al sir e fa e fa la domina sulle note sopra il pentagramma e sotto il pentagramma quindi quando andiamo a usare i tagli addizionali ci arriveremo poi come esercizio pratico però nel frattempo potete ovviamente familiarizzare col concetto quindi pentagramma potenzialmente infinito sol taglio addizionale vado in la taglio addizionale sotto e sto in si due tagli addizionali sto in do e così via lì sotto succede il contrario re taglio addizionale e la nota precedente a re è un do quella poi sarà il si e vedete sul si ci sta il taglio addizionale sopra anche se qui si vede poco e in la che invece ha due tagli addizionali cioè uno sopra e uno che invece lo divide a metà ok la stessa cosa succede in chiave di fa soltanto qual è la differenza che i punti di riferimento sono diversi quindi questa nota qui che trovate sul primo rigo sul primo rigo della chiave di sol noi avevamo un mi giusto? perché se il sol sta qui in mezzo dove avevamo i due puntini prima la nota precedente sarà un fa e la nota precedente sarà un mi invece se andiamo in chiave di basso chiave di fa se questa nota è un fa ok andiamo a discendere fa mi starà qui sullo spazio re starà qui sul rigo do starà qui sullo spazio si starà qui sul rigo la starà qui sullo spazio e qui c'è un sol ora il motivo per cui conviene impararle è che un conto è quando state vicini dicendo sappiamo che questo è un fa devo andare a vedere la nota successiva vabbè ok sarà un sol assolutamente però se invece dovete fare un salto così grande non è che potete mettervi ogni volta a contare fa mi re do si la sol vi conviene imparare che qua sotto c'è un sol cioè sulla prima riga della chiave di basso c'è un sol sulla seconda riga della chiave di basso c'è un si e così via quindi il concetto è lo stesso quello che avete fatto in chiave di violino soltanto che ovviamente le posizioni delle note sono diverse vi faccio notare una cosa curiosa siccome le note sono sette come sapete le note senza alterazioni poi vedremo cosa sono le alterazioni e quindi le famose do re mi fa sol la si do una volta finite si ricomincia quindi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si e così via se noi abbiamo un meccanismo per cui prendiamo una nota si una nota no perché andando a vedere queste note con le righe o note con gli spazi noi facciamo questo no mi saltiamo il fa sol saltiamo il la si quindi facciamo una si una no una si una no a un certo punto poi ricominciando la scala la fila strocca è sempre la stessa quindi se io qui ho mi sol si re fa sotto se comincio da sol c'è però sol si re fa vedete che sono le stesse che c'erano qui sol si re fa ok sol si re fa dopo il fa che cosa ho? quello che avevo qua sotto dove sta? sol si re fa e da qua avevo note sugli spazi fa la ok quindi qua sotto c'erano semplicemente una disposizione diversa delle stesse note di prima qui era mi sol si re fa fa lato mi qui invece sarà sol si re fa la e qui lato mi sol quindi non è poi così complicato riuscire a memorizzare queste cose per cui primo consiglio cercate di memorizzare imparando a memoria piano piano non col tempo che ci vuole le note con le righe le note con gli spazi della chiave di violino e della chiave di basso e poi fate un esercizio molto semplice prendete un pentagramma vuoto oppure ve lo disegnate voi e ci commettete dei pallini a caso cioè proprio lo fate mettete delle note a caso sulle righe o sugli spazi senza pensarci le buttate giù così ok dopodiché ricominciate dalla prima e scrivete sotto il nome di ciascuna nota di quelle che avete scritto a caso prima ok ragionando se siete in chiave di violino o se siete in chiave di basso dopodiché prendete questo schema qui e andate a verificare ok se avete degli spartiti a disposizione potete fare anche la stessa cosa scegliendo delle note a caso negli spartiti cioè anche se lo spartito è molto complesso voi scegliete una nota dentro l'ambito del pentagramma o nella chiave di violino o nella chiave di basso e andate a vedere cioè ci scrivete oppure vi appuntate che nota pensate che sia e poi l'andate a verificare ok questa cosa qui vi aiuta per orientarvi perché la cosa principale che dobbiamo fare su uno spartito è orientarci cioè riuscire a capire che uno dei parametri più importanti anche se secondo me non il più importante è quello dell'orientamento quindi del sapere che nota stiamo andando a leggere ok allora andando avanti qui ci mette le posizioni delle note dentro l'estensione del pianoforte ma questo noi non essendo tutti pianisti non ce ne frega niente o meglio ce ne frega però non è necessario in questo momento allora passiamo invece a un altro dei parametri che sono importanti noi abbiamo definito l'altezza quindi dove sta questo suono dentro l'ambito musicale cioè noi possiamo avere una suona più grave uno più acuto uno ancora più grave quindi la sua posizione nell'altezza l'abbiamo definita attraverso la posizione nel pentagramma il secondo parametro che ci interessa moltissimo è la durata di una nota ok e per vedere la durata noi dobbiamo rapportarla ovviamente a unità di misura e questa unità di misura deve avere una definizione nel tempo e nello spazio lo so che sembrano discorsi un po' più complicati ma in realtà è proprio questo cioè il tempo come nella vita non soltanto nella musica scorre in modo lineare noi possiamo scandirlo questo tempo ok come facciamo andare a scandire il tempo nella musica lo facciamo dividendo una porzione di tempo in una serie di colpi ok una serie di colpi che possiamo chiamare battiti o beat e queste cose qui poi definiscono quelli che si chiamano in musica ritmi ok possiamo avere poi ritmi che sono ordinati secondo determinati gruppi quindi ritmi accentati per esempio io per ritmo intendo semplicemente che prendo un tempo e lo divido in parti uguali un esempio banalissimo di tempo diviso in parti uguali qualcuno me lo sa fare? tutti coraggiosi vedo niente? dico io? dico io allora l'esempio principale di tempo diviso in parti uguali è quello del metronomo ah no credo che avete scritto ah no Giulia aveva risposto in chat l'ho vista adesso sì comunque no parlate quando volete rispondere perché sennò la chat l'avevo dopo sì esatto ha scritto il minuto e infatti sì il minuto con i suoi 60 secondi è una divisione di una porzione di tempo che esiste perché esiste? perché noi abbiamo deciso di dividerla cioè il minuto non esiste in senso assoluto esiste nel momento in cui diciamo ok chiamiamo questo spazio qui secondo e poi prendiamo 60 di questi spazi qui li chiamiamo minuto prendiamo 60 di questi spazi qui li chiamiamo ora e così via decidiamo che tutto il mondo fa la stessa cosa e abbiamo creato una convenzione però in musica la cosa in realtà è più semplice da una parte e molto più complicata dall'altra perché la convenzione esiste però è più adattabile ovvero noi possiamo decidere che dentro il minuto che prendiamo a questo punto come unità di misura i bit che ci stanno dentro quindi i colpi possono essere anche diversi da 60 se noi prendiamo un tempo a 60 decidiamo che andiamo alla velocità dei secondi quindi andiamo più o meno forse un po' più lento insomma più o meno così se decidiamo che invece di colpi ce ne devono stare cioè il tempo deve essere più veloce ovviamente nell'ambito del minuto io non ci metterò dentro soltanto 60 secondi ma ce ne metterò per esempio 80 ok e quindi invece di avere avrò una roba del genere ovviamente ora stanno senza metronomo quindi non prendetemi come esempio per il riferimento numerico per fare questo usiamo per l'appunto uno strumento di misurazione che si chiama metronomo che infatti ci definisce il tempo proprio con un numero noi quando andiamo a mettere quel numero nel metronomo quando ci scriviamo 40 60 120 260 diciamo quanti beat quindi quanti colpi io avrei dentro un minuto ok e questo è un ritmo lineare nel senso che non è accentato noi abbiamo tutti i colpi uguali ta 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 quello che lo rende invece interessante e musicalmente utile non è il tempo il beat ma è l'accentazione cioè noi possiamo decidere che se questo è il ritmo di base in cui tutti i beat sono uguali io posso evidenziarne alcuni e quindi fare in questo caso io sto marcando la prima di quattro accentazioni quindi ho infiniti beat li divido in gruppi da quattro è un po' come quando fate non so se l'avete mai visto le quattro stanghette e poi la quinta per chiudere in questo caso lo facciamo a quattro quindi facciamo uno due tre quattro uno due tre quattro metto l'accento sull'uno e definisco un tempo da quattro quarti ok perché quattro quarti perché io mi muovo nell'ambito di un intero di quella che viene definita battuta e questa battuta ha un valore intero che io divido in quattro accenti ok quindi in questo caso per esempio se io avessi questi quattro anzi se io ho questi quattro tempi due tre quattro e devo suonare una nota questa qui per esempio questa che vedete sulla dispensa che ha un valore di un intero cioè di quattro quarti io dovrò suonare una nota che in questo caso se mi trovo in chiave di violino sarà un si perché le note sulle righe sono mi sol si ok se io devo suonare questo si che dura quattro quarti invece ho il mio tempo che sarà questo o due tre quattro o due tre sono il si non so se lo sentite alzo un po' il volume uno due tre quattro ok uno due tre quattro finisce la nota se devo suonare questa nota successiva che invece prima riga sugli spazi fa perché sugli spazi sono fa la do e mi quindi questo è un fa sempre se stiamo in chiave di violino ovviamente io suono quindi un intero quindi quattro quarti di si e due quarti di fa fa che sta sotto il si perché ce ne avrò uno anche sopra ma io so che se il si sta qui e il fa sta qui devo andare in senso discendente perché si va verso l'acuto salendo verso il grave scendendo quindi si da quattro e fa da due i miei accenti sono sempre uno due tre quattro due tre quattro uno due ok ora mi sono fermato col tempo ma in realtà posso andare avanti posso fare uno due tre quattro uno due tre quattro uno cioè il fatto che la nota abbia smesso di suonare non vuol dire che il tempo si ferma quello possiamo deciderlo se c'è una ritmica la ritmica si può fermare ma quella è performance possiamo decidere che il brano è finito a quel punto e allora non c'è più bisogno di considerarlo però il fatto che una nota non esista più cioè si fermi non genera un rallentamento del tempo una sospensione o altro genera quella che si dice una pausa ok quindi qui avete i valori delle note che appunto vanno un po' diminuendo come durata quindi questa dura quattro questa dura metà due quarti questa dura un quarto questa un ottavo cioè la metà di un quarto questo è un sedicesimo ovvero un quarto di un quarto quindi una metà di un ottavo e così via trentaduesimo e sessantaquattresimo ogni nota sarà rispetto al tempo sempre più veloce ora se io voglio riempire una battuta intera invece che con una nota sola con due ce ne posso mettere per esempio due che valgono metà due che valgono due quarti quindi invece di suonare questo sì io potrei suonare due volte fa fare questa cosa qui scusate un due tre quattro sei due tre quattro fa fa ho suonato due note che mi hanno riempito lo stesso spazio che io prima riempivo con una nota sola ok dicevo quando non si suona il tempo continua a scorrere e noi quella cosa la chiamiamo pausa ok se volete un esempio del cavolo di quelli che faccio io è come se considerate il tempo di una giornata dividendo e distinguendo il tempo in cui siete svegli e fate cose e il tempo in cui dormite nel momento in cui andate a dormire chiudete gli occhi arrivederci a tutti non è che il mondo si ferma e nessuno vive più e nessuno fa fa più niente ovviamente il mondo va avanti semplicemente voi siete in sospensione ok quindi un musicista che fa una pausa uno strumento che non suona più o meno fa questa cosa qui lascia lo spazio agli altri gli altri possono essere gli altri strumentisti che magari in quel momento stanno facendo altro non hanno una pausa gli altri possono anche semplicemente essere gli ascoltatori che in quel momento hanno una pausa per prendere un respiro per aspettarsi qualcosa che avviene dopo per creare un momento di suspense la pausa la pausa si fa per molti motivi ok però è importante considerare la pausa non come un momento di stop ma come un momento di sospensione ok allora esercizio da fare esercizio stupido ma importante io non vi faccio fare ancora lettura non vi faccio fare ancora ritmica perché voglio che prima familiarizzate con i valori quindi esercizio stupido da fare per la prossima volta che ci vediamo magari la prossima volta iniziamo proprio con qualche qualche piccola verifica ok prendete uno spartito a caso basta che se non ce ne avete uno chiedetelo a me posso mandare qualcosa oppure semplicemente su Google scrivete spartito e andate su immagini vi trovo vi viene fuori qualcosa e andate a individuare le tipologie delle note che vediamo ok allora quindi quella che vale 4 quella che vale 2 quella che vale 1 e poi quelle che valgono di meno cioè un ottavo un sedicesimo un trentaduesimo un sessantaquattresimo l'attenzione è una cosa non so se qui ve lo fa come esempio esatto queste qui con le zampette laterali ok la croma per esempio che vale un ottavo e che è uguale alla semiminima quella che vale un quarto ma c'ha una virgoletta sopra se sono due o più di due a seconda dell'accentazione del pezzo del tempo ma poi queste cose sono cose che vedremo le troverete legate cioè ovvero una croma la troverete scritta così singolarmente due crome le trovate scritte così vedete queste due vabbè qui sono quattro però in realtà avrebbero potuto essere anche due queste le due virgolette ovviamente si uniscono ok quindi quattro crome le trovate divise così queste sono quattro semicrome quattro discrome quattro semi-biscrome quindi un quattro sedicesimi quattro scusate quattro ottavi quattro sedicesimi quattro trentaduesimi otto sessantaquattresimi quindi dicevo prendete lo spartito andate a individuare quelle che sono le note che avete scelto che volete e scriveteci sotto il valore e poi andate a verificare che questa cosa sia stata fatta bene ok per quanto riguarda i tempi semplicemente andatevi a vedere un po' di tempi che trovate all'inizio degli spartiti allora qui da qualche parte lo spiega la parte della ritmica qui sono le alterazioni ma ve le spiego un'altra volta vediamo un po' no forse era prima perso ah eccolo qui ok questa cosa qui la frazione posta all'inizio del pentagramma indica nei tempi semplici al numeratore ovvero il numero che c'è sopra ok il numero di tempi dentro ogni battuta il che vuol dire che la battuta quindi quella che trovate tra una stanghetta e l'altra vedete queste stanghette una e due oppure questa qui che non c'è perché c'è la chiave di urino è questa quindi in questo ambito qui tra una stanghetta e l'altra noi troveremo tot accenti che sono il numero di tempi che sono il numero che trovate sopra la frazione e sotto al denominatore trovate la figura di riferimento cioè quella che è l'unità di misura che noi useremo per gli accenti quindi per esempio se c'è scritto 4 4 4 sopra e 4 sotto noi avremo 4 note 4 tempi e ciascuno di quei tempi avrà un valore di un quarto quindi avrà un valore di una di queste qui ok 4 quarti vuol dire 4 di queste da una parte all'altra devo avere per forza 4 di queste dentro ogni battuta? no, non è detto posso averne 4 di queste oppure 2 di queste per esempio perché ognuna di queste vale 2 quarti quindi ne trovo una ne trovo un'altra e poi 3 stanghetta perché è finito il mio ambito potrei trovarne una di queste oppure potrei trovarne quante di queste? 8 ovviamente perché ciascuno di queste vale metà di un quarto quindi qui l'esempio che vi fa è con il tre quarti vedete? tre quarti significa che dentro ogni battuta ci devono essere tre tempi e che ognuno di questi vale una semi minima quindi un quarto ok? quindi invece poi ci sono i tempi composti che ci facciamo in un altro momento però intanto familiarizzate con i tempi semplici quindi andatevi a cercare gli spartiti che siano da due quarti tre quarti quattro quarti non è detto che l'unità di misura debba essere il quarto anche se è frequente può essere due ottavi tre ottavi quattro ottavi due sedicesimi due mezzi tre mezzi quello che è l'importante è che verificate una volta visto qual è il tempo che dentro la battuta ci sia effettivamente il numero di battute che che corrisponde al tempo indicato per esempio quella che c'è qui queste queste righe pentagrammate che ci sono qui allora noi abbiamo vabbè qui ci sono i punti beh sì questo forse ve lo spiego la prossima volta andiamo a prendere un altro esempio vediamo se abbiamo un ecco qui anche semplicemente qui per esempio qui ci sono delle stanghette ok? che indicano che qui c'è una cesura che qui è finita la battuta ora per sapere in che tempo sono visto che qui non lo trovo scritto all'inizio del pentagramma mi basta vedere che nota c'è qui io ho una nota senza nessuna stanghetta e vuota dentro quindi vado qui sotto e verifico il valore di quella nota che è quattro quarti un intero quindi qua sopra io potrò avere che indicazione? potrei averci quattro quarti che vengono tutti quanti diciamo riempiti dalla nota da una nota sola però potrei avere anche una suddivisione diversa cioè io potrei avere se suonassi questo sol questo sol basso perché qui siamo in chiave di basso quindi questo è un sol io potrei avere questa nota qui quindi avere quattro quarti uno due tre quattro un sol che li prende tutti quanti ma potrei avere anche come indicazione per esempio due quarti ok? e quindi avrei due accenti uno due e il sol che ne prende tutti e due perché ciascuno di questi di questi accenti la mia indicazione di tempo all'inizio della battuta che qui non c'è ma lo sto facendo io come esempio mi dice ciascuno di quei di quei bit lì ti dà un tempo di due quarti ok? quindi per esempio se io faccio uno due ok? ora la domanda che probabilmente vi sta venendo vi sta venendo in mente ma se non ce l'avete in mente ve lo dico io che cos'è che definisce la velocità di tutto questo? quello che abbiamo detto prima i bpm vi ricordate? cioè quanti bit vengono fatti per minuto? 80 120 eccetera è chiaro che più ce ne sono più il tempo sarà veloce ora prima avevamo detto che quei bit non avevano nessun valore ok? è vero finché li consideriamo bit neutri non ce l'hanno se noi però andiamo a unire quel concetto lì di tempo come fluire a questo concetto qui di indicazioni temporali allora a questo punto abbiamo una un quadro chiaro della situazione cioè noi abbiamo per esempio l'indicazione non so qui sotto c'è l'esempio in tre quarti ok? tre quarti allora sappiamo che tre quarti vuol dire che ho tre accenti uno due tre uno due tre prendo un metronomo così vi faccio anche un esempio diretto dandovi qualche cosa di concreto allora io apro il mio metronomo e sto a un tempo di 70 ok? lo sentite? lo metto vicino al microfono allora questo qui io so che è un tempo di 70 quindi sarà uno due tre uno due tre uno due tre sentite io sto sto accentando soltanto il primo dei tre tempi perché gli altri due li fa li fa il metronomo ok? uno due tre uno due tre uno due tre e così via se io voglio un tempo più veloce invece di impostare 70 come valore per ciascuno dei miei quarti metto per esempio 100 questo è il mio tempo neutro 100 bpm quindi dentro ogni minuto ci sono 100 di questi e il mio tempo diventa uno due tre uno due tre uno due tre voglio fare 120 uno due tre penso non si sente il metronomo però ah perfetto è fatto che non si sente allora aspetta faccio rifaccio l'esempio facendo io tutte e due le cose ok? quindi se io ho il tempo a 70 ok ora lo sentite? no neanche così no aspetta lo faccio direttamente sul microfono sente qualcosa? no perfetto allora ok allora facciamo così il tempo le suddivisioni del tempo ve le spiego la prossima volta mi attrezzo con un microfono migliore di questo e allora niente no facciamo soltanto questo lavoro di identificazione quindi dei tempi e dei valori delle note e memorizzazione delle posizioni delle note sulle righe sugli spazi chiave di giurino e chiave di basso ok? allora noi a questo punto ci vediamo tra due settimane nel frattempo se volete esplorarvi le altre argomenti che ci stanno dentro la dispensa potete farlo tranquillamente ok? se avete delle domande mi potete scrivere se avete dei dubbi mi potete scrivere e ovviamente io questa lezione la prendo cerco di fare un montaggio in modo che venga una cosa razionale visto che l'abbiamo interrotta eccetera e la metto su su youtube e poi vi mando il link qui in chat nella nostra chat di whatsapp per cui poi trovate lì tutte le indicazioni ok? ci sono domande? ok niente? tutto chiaro? ok perfetto lo prendo come un sì a questo punto ragazzi io vi interrompo la condivisione schermo così almeno vi saluto dal vivo e spero di non essere stato troppo noioso spero di nonostante i problemi tecnici di essere stato chiaro su questi primi concetti veramente molto fondamentali e noi ci vediamo quindi tra due settimane aspettate che vi dico anche il numero ma tanto poi ve lo riscrivo in chat comunque si tratterà di venerdì 16 dicembre sempre alle ore 19 sempre online con una connessione migliore con un microfono che faccia sentire il metronomo ok? grazie a tutti ciao buona serata grazie a tutti